Signor Presidente, signori della Corte, signor Pubblico Ministero, cortesi difensori di parte civile e signori avvocati che mi onorate di stare al mio fianco nel Collegio di Difesa. Per la verità, adesso che siamo giunti alla fine di questo procedimento, vorrei ricordare, sia pur brevemente, come questo procedimento ha avuto origine. E caso piuttosto singolare, alle origini di questo procedimento penale, noi troviamo due richieste di archiviazione, due richieste di archiviazione che riguardano il signor Vincenzo Virga e il signor Vito Manzano. Naturalmente la richiesta di archiviazione è l'atto tipico cui fa ricorso il Pubblico Ministero quando ritiene che non vi siano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. E qui richieste di archiviazione ne abbiamo due. Queste richieste di archiviazione si collocano temporalmente negli anni 2003 e 2007. Siamo cioè in una fase del procedimento nella quale la Procura ha già abbandonato la pista interna, quella per intenderci che conduce direttamente alla comunità samana. L'ha abbandonata e iscrive nel registro degli indagati Vincenzo Virga e Vito Mazzara che già si trovavano all'Argastolo. Peccato però che dopo averlo fatto la Procura si trovi a un punto morto perché altrimenti non ci sarebbe stata una richiesta di archiviazione. Figuriamoci poi se ce ne fossero, se ce ne sarebbero state due. Dopo aver iscritto nel registro dell'indagato Vincenzo Virga e Vito Mazzara la Procura si trova a un punto morto ma ciononostante la auspicata archiviazione non avviene. Eppure sono delle richieste di archiviazione signori che recano le firme degli stessi magistrati che hanno sostenuto l'accusa in questo dibattimento. Quindi significa che signori magistrati che oggi vi chiedono di assumervi la tremenda responsabilità umana, morale e giuridica di scrivere la parola mai laddove si dovrebbe leggere invece la data in cui una persona cesserà di scontare la pena dopo venti anni di indagini e un consiglierevole impiego di risorse hanno ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per progressare Vincenzo Virga e Vito Mazzara. Ma l'archiviazione non avviene perché accade tra l'altro che un gruppo di cittadini facendosi interprete di un'esigenza certamente diffusa in larghi strati dell'opinione pubblica si chiede come mai dopo venti anni di indagini e dopo tante risorse che sono state impiegate non si riesca ancora a fare un processo per l'omicidio di Mauro Rostagno. Chiedono quindi che il processo venga celebrato. Signori per quanto vi possa sembrare strano io sono d'accordo con loro ma per quale motivo signori si dovrebbe archiviare un procedimento per l'omicidio se abbiamo tre testimoni oculari. Io prima credevo forse ingenuamente che trovare dei testimoni oculari in un processo per l'omicidio fosse il sogno di qualsiasi inquirente in qualsiasi parte del mondo. scusate ma si parla sempre dell'omertà dei siciliani e qui fino a prova contraria abbiamo due ragazze siciliane che si mettono a disposizione degli inquirenti dicono tutto quello che sanno e non arretrano neanche dinanzi a quell'album fotografico di cui la corte non ha potuto prendere visione per la deciso opposizione dell'accusa. Può darsi però che in quell'album fotografico le sorelle fonte non abbiano riconosciuto le truci immagini di biechi killer di cose nostre e che nel verbale di riconoscimento si trovi invece qualche elemento idoneo a dimostrare l'assoluta fondatezza della pista interna. E come abbiamo saputo è vergogna parlare della pista interna. Ce l'ha detto molto chiaramente il signor Pubblico Ministero in sede di requisitorio. è una vergogna riproporre la pista interna. Io devo dire molto sommessamente che personalmente non mi sarei mai sognato di dire che una iniziativa della Procura fosse anche un'iniziativa che nel mio intimo abborro e per la quale da tre anni non riesco a trovare una giustificazione costituisco una vergogna. Io non lo avrei fatto perché mi sarebbe sembrato offensivo dell'altrui professionalità. per di più sarebbe stata un'offesa lanciata a un cortese contraddittore tutelato dal reato di oltraggio a magistrato in udienza. Quindi non l'avrei mai fatto, non me lo sono neanche sognato. però non posso fare a meno di considerare che abbiamo assistito all'affermarsi da questi banchi di un diverso modello professuale, mi duele non poter dire nuovo, in cui la pubblica accusa dopo aver onorevolmente assolto al proprio onere di fornirci la prospettazione accusatoria pare volerci suggerire anche quale debba essere, o meglio quale non debba essere, la linea difensiva. Mi dispiare signori, ma un processo del genere si potrebbe fare anche senza difensore perché vedete la mia linea difensiva non la decide il mio assistito come non la decide il signor pubblico ministero. Il mio assistito potrà revocarmi il mandato, il pubblico ministero ha tutti i poteri inerenti alla sua funzione ma deve essere ben chiaro che fin quando indosso la toga la linea difensiva la decide la mia coscienza. E comunque al processo ci si arriva. È un processo che si svolge in un clima davvero particolare che ritengo doveroso ricordare. È per certi versi il clima di una mobilitazione popolare con un corteo che scorta alcune delle parti civili verso il Palazzo di Giustizia. E in questo gli organi di informazione hanno creduto di dover segnalare una novità. Un segno del rinato senso civico dei siciliani. Però vedete la parte civile è per definizione parte nel processo penale. E quindi il senso civico in questo caso consisterebbe nello sposare le ragioni di quella parte che nel processo penale chiede la condanna dell'imputato. Ma questo sarebbe vero qualora l'imputato dovesse essere considerato pregiudizialmente colpevole. Eppure già Alfredo Rocco, autore di quel codice che tutti noi, volenti o nolenti, continuiamo ad applicare per l'esempio della ragione che in 80 anni nessuno è riuscito a farne uno migliore, diceva che fino a quando c'è un processo non c'è né un colpevole né un innocente, ma soltanto un imputato. E mi risulta anche che questa presa di posizione del guardia sigilli fascista, che veniva salutata dalla dottrina dell'epoca come permeata da grande equilibrio, sia stata anche superata dall'articolo 27 della Costituzione. Non ho dubbi che ciascuno di quei manifestanti si sentisse in cuor suo un difensore della Costituzione. E rimango anche perplesso quando queste manifestazioni mi vengono presentate come una novità. Vedete, se ci fosse davvero la volontà di andare al di là degli slogan e di trarre insegnamento dalle vicende umane, sarebbe facile ricordare che simili manifestazioni con gente che percorreva le strade chiedendo la condanna dagli imputati si vedevano già negli anni venti, per esempio in occasione al processo ai quadri dirigenti del Partito Socialista Rivoluzionario. Soltanto quelle erano le strade di Mosca e quella era una società totalitaria. Ovviamente le cose cambiano quando si arriva all'udienza. Se non altro perché l'udienza è il luogo in cui la parte civile può legittimamente fare valere la propria pretesa risarcitoria. E infatti da subito la difesa si trova a dovere fronteggiare un buon mezzo plotone di parti civili. Tra queste mi è gradito ricordare il comune di Trapani, la ex provincia regionale di Trapani e la regione siciliana. Questi enti, vedete, non sono stati secondi a nessuno nel manifestare il cordoglio per la morte del dottore Rostagno dopo il 26 settembre del 1988. Però nel 1982 il comune di Trapani affossava il progetto presentato al dottore Rostagno perché rinascesse Borgo Fazio. Sapete, nella convulsa estate del 1943, quando un dottore Rostagno ancora in fasce poteva forse ascoltare nella nativa Torino il passo cadenzato del reparti di Graziani in marcia verso il fronte di Nettuno, il sindaco di Trapani, sostenuto forse dalla volontà popolare, ma con maggiore certezza dalla ferrea volontà di Charles Poletti e dalle baionette americane, decretò la fine di Borgo Fazio. Venne ritirata all'ostetrica, non ci fu più il medico condotto, chiuse la scuola e i contadini, a poco a poco, furono costretti ad abbandonare quel paese. Poi a un certo punto, 40 anni dopo, arriva il dottore Rostagno, proveniente da lotta continua e vuole che Borgo Fazio rinasca. Si sarebbe chiamato Saman, ma quello che importa è che ci sarebbero stati di nuovo i bambini a giocare nella piazza, ci sarebbe stato l'ufficio postale, la scuola, il medico. Non si fa nulla. Il comune di Trapani affosse il progetto. Quel comune di Trapani, che oggi serafico, viene a chiedere il risarcimento per la morte del dottore Rostagno. Serafico, come serafica, continuò la seduta del Consiglio Comunale di Trapani quando venne data la notizia della morte del dottore Rostagno. Per quanto riguarda la ex provincia regionale di Trapani, voglio ricordare che nel luglio del 1985 rifiutò un contributo che il dottore Rostagno aveva chiesto con questa motivazione. Questa attività non ha rilevanza sociale. E nel novembre di quell'anno al Consiglio provinciale scoppia addirittura un putiferio quando viene avanzata la proposta di un finanziamento per la comunità Saman che allora venne proposta dall'assessore socialista Enzo Mauro. Oggi la provincia chiede un risarcimento per la morte del dottore Rostagno. E, lasciatemi dire, in cauda venenum, per ultima arriva la regione siciliana. Il rappresentante della regione siciliana, devo dire che abbiamo avuto l'onore di conoscerlo in udienza, anzi all'ultima udienza utile per presentare la comparsa conclusionale e l'immancabile nota spese. Il bellicoso collega, già militante di lotta continua, come ha tenuto a precisare, è venuto, metaforicamente parlando, armato del rasoio di Ockham e ci ha fornito un'immagine inedita del dottore Rostagno in qualità di Hare Krishna. Certo che dovevano conoscerlo veramente bene, al dottore Rostagno. Vedete, io credo che se il dottore Rostagno fosse stato un Hare Krishna, il rasoio di Ockham lo avrebbe utilizzato per radersi i capelli. Circostanza che mi sembra smentita dall'iconografia ufficiale. Però, alla fine, il processo inizia. Il processo viene celebrato in quest'Aula e da subito vengono portati avanti degli argomenti da parte della Procura di Palermo. Si dice sin dall'inizio che questo deve essere stato necessariamente un processo di mafia perché diversi indizi ci portano a crederlo. Per esempio, l'uso delle armi. È stato utilizzato un fucile a calibro 12 e un revolver calibro 38. Quindi, se uso un fucile a calibro 12 e un revolver calibro 38 per commettere un omicidio, sono un mafioso. Se uso una Uzi 9 mm, sarò un narcotrafficante colombiano. E se uso il beretto M12, che cosa sono? Un agente della polizia penitenziaria. In questo clima, signori, la difesa interviene nel processo, come si dice in francese, sans armi, ni haine, ni violenza. Senza armi, né odio, né violenza. Senza odio o violenza, mi augurerei che venisse dato per scontato. Ma sapete perché dico senza armi? Perché le armi per combattere in questo processo la difesa le ha trovate tutte nel fascico del pubblico ministero. Vedete, chi ha smesso di credere alle favole non crede neanche alla storiella della parità tra accusa e difesa. Il pubblico ministero può semplicemente prendere il telefono e ha a sua disposizione carabinieri, polizia, guardia di finanza, guardia campestri, in pratica qualunque corpo indivisa, forse con l'unica eccezione dei boy scout. La difesa può al massimo fare ricorso a un consulente. Nel caso specifico deve trattarsi anche di un consulente disposto ad accettare la rapidità dei pagamenti e la munificenza che sono caratteristica tipica dell'Istituto del Patrocino a Spesa dello Stato come tutti i colleghi sanno. Però è stata dalla lettura delle carte del pubblico ministero che al ricordo pure così vivo dell'uomo che parlava con intelligenza e sagacia dagli schermi televisivi si è sovrapposta l'immagine più completa e più grande di un dottore Rostagno giunto alla fase apicale della sua esistenza. Quella fase nella quale stranamente si percepisce una certa solitudine come quando si è giunti in cima alla cuspida. Però anche lo scenario nel quale il dottore Rostagno combatteva le sue battaglie appare diverso. Ed è uno scenario che da subito lascia presagire la tragedia che andava maturandosi. Vedete, se io dovesse dire oggi l'idea che mi sono fatto del dottore Rostagno attraverso la lettura delle carte del pubblico ministero sarei costretto a fare il ricorso a un'immagine presa in prestito dalla filosofia classica tedesca. Direi che il dottore Rostagno apparteneva in effetti a quel raro tipo umano capace con la stessa facilità con la quale scorgeva il cielo stellato sopra di sé di vedere altrettanto chiaramente la legge morale dentro di sé. Laddove per legge morale dobbiamo intendere quella singolare disposizione dell'animo umano che tutti dovremmo onorare più di ogni altra cosa e cioè l'altruismo. Però quando sono costretto a pensare a quello che è stato il destino del dottore Rostagno allora sono costretto a congedarmi dal filosofo di Kenisberg a ridiscendere le Alpi per accostarmi alle parole ammonitrici del nostro Machiavelli. e il grande Fiorentino dice uon che voglia far per ogni parte professione di buono convien che perisca infratanti che non sono buoni. Vedete io temo che il dottore Rostagno di persone disposte a prendere Machiavelli alla lettera ne abbia trovate parecchie. C'era quel Marrocco Luciano che decide di dare un segno tangibile del calore umano che lo lega a Rostagno dando fuoco all'appartamento dove Rostagno dormiva con Rostagno dentro. Sentimenti non dissimili credo che dovessero nutrire i signori Massimo Oldrini Giuseppe Camis Giuseppe Rallo visto che nel momento in cui il dottore Rostagno denuncia l'insorgere del flaggello dell'eroina in città loro introducono eroina all'interno della comunità. E in particolare Massimo Oldrini è stato il destinatario di un inquietante biglietto che si trova in atti. Un biglietto scritto dalla figlia della vittima lo potrete vedere in Camera di Consiglio andatelo a vedere perché in quel biglietto c'è scritto Massimo cosa hai fatto chi me lo ridà il mio papà vedete ho come la sensazione che quella cosa che veniva rimproverata Massimo Oldrini non fosse esattamente una marachella c'è poi Giovanni Genovese Giovanni Genovese per meglio esercitare la sua attività di spaccio si fa assegnare alle funzioni di angelo della notte fino a quando il dottore Rostagno non lo scopre e lo sostituisce con Mario Moioli poi sospetto che il signor Genovese non abbia gradito molto il fatto di perdere il suo reddito principale e forse non è neanche contento che ci sia in giro una persona il dottore Rostagno che se soltanto volesse potrebbe garantirgli un lungo soggiorno nelle patrie galera al di sopra di tutti questi soggetti dalla condotta assolutamente specchiata sta il cardella una figura carismatica che esercita un potere assoluto per la semplice ragione che il cardella ha a tenere in mano i cordoni della borsa ed è una borsa che cardella è ben intenzionato a rimpinguare questa è la situazione all'interno della comunità Saman ed è una situazione che è stata ricostruita con dovizia di particolari dal maresciallo della guardia di finanza Antonio Vessicchio nessuna contabilità fino al 1995 impossibilità materiale di distinguere tra le spese destinate alla gestione della comunità e quelle realizzate per finalità personali tutto questo la magistratura lo conosce bene semmai a me viene spontaneo chiedermi come mai si sia dovuto aspettare fino al 1995 perché venissero fatte delle indagini sulla contabilità della comunità Saman forse per lo stesso motivo per cui oggi non si può parlare della pista interna ora è stato detto che di questa questione che di questa situazione il dottore Rostagno non ne sapesse nulla perché Rostagno non si occupava di denaro veramente a me risulta che il dottore Rostagno di denaro se ne occupasse come? si occupava degli sprechi del denaro pubblico si occupava delle malversazioni del denaro pubblico si occupava di tutto quel denaro pubblico che finiva nelle tasche di una classe dirigente che egli trattava con la stessa arguzia e la stessa sagace con la quale Aristofane trattava la classe dirigente del suo tempo nella sua famosa commedia i cavalieri semmai è corretto dire che il dottore Rostagno denaro ne maneggiava molto poco questo lo sappiamo grazie alla testimonianza del luogotenente dei carabinieri Beniamino Cannas sia detto per inciso sono state mosse molte critiche a questo luogotenente dei carabinieri che riguardano essenzialmente il modo in cui sono stati trattati i reperti però vedete signori è bene ricordare che nel lontano 1988 non si vedevano ancora gli uomini del generale Garofano con i loro scafandri bianchi a girarsi per il luogo del dritto quindi rimproverare al luogotenente Cannas il modo in cui sono stati trattati i reperti a me sembra un tantino ingiusto è un po' come rimproverare a un bravo medico dal passato il fatto di aver usato il laudano invece della nuova ocaina però è proprio grazie alla testimonianza del luogotenente Cannas che la figura del dottore Rostagno appare ancora più grande sapete quando proprio mentre Cannas ce lo descrive intento a raccogliere gli scontrini in un bar per farsi rimborsare la colazione stranamente curiosamente questo particolare a quanto pare ha suscitato l'irritazione dalle parti civili sostanzialmente si rimprovera al maresciallo Cannas oggi luogotenente di avere descritto il dottore Rostagno come un barbona signori anche Diogene era un barbona però era per l'appunto Diogene e poteva permettersi di disdegnare le offerte dell'uomo più potente del suo tempo tale Alessandro di Macedonia io credo che tra queste due personalità ci siano molti punti di contatto tranne che per il fatto che a quanto mi risulta nessuno pensò mai di dare fuoco alla botte dove dormiva Diogene con Diogene dentro quindi se il dottore Rostagno in un contesto in cui Cardella comprava addirittura Dragamine dalla Marina Svedese con la stessa facilità con la quale io potrei forse comprare un canotto di gomma non maneggiava molto denaro la cosa gli faceva assolutamente onore e la questione non è dire se il dottore Rostagno sapesse o meno quello che accadeva all'interno della comunità signori il dottore Rostagno era un sociologo il dottore Rostagno si occupava delle dinamiche della società dire che non sapesse quale dinamiche operassero nel luogo in cui viveva secondo me è offensivo dell'intelligenza del dottore Rostagno la domanda credo che debba essere un'altra che cosa poteva fare poteva certamente diventare il complice della Cardella arricchirsi viaggiare con l'aereo personale non lo ha fatto oppure poteva andarsene sbattendo la porta e dopo dopo sarebbe stata la fine del dottore Rostagno come lo abbiamo conosciuto e come è stato amato perché la rottura con il Cardella avrebbe portato inevitabilmente alla perdita di tutti quegli spazi di agibilità dei quali il dottore Rostagno aveva goduto fino a quel momento chi è consapevole dell'influenza che avesse Cardella in quegli anni nell'allora Partito Socialista non può dubitarla perché il Partito Socialista allora era il potere quindi il dottore Rostagno non si fa contaminare dal denaro di Cardella e non perde neanche l'opportunità di portare avanti la sua opera scusate ma a voi risulta forse che il dottore Rostagno avesse i mezzi per aprire una sua comunità oppure per fondare una televisione no perché a me risulta che il dottore Rostagno fosse figlio di onesti operai e quando suo padre gli lascia una casa sapete cosa fa il dottore Rostagno versa tutto alla comunità Samanna perché credeva alla comunità Samanna quindi il dottore Rostagno rimane al suo posto rimane nelle peggiori condizioni possibili e questo signore il dottore Rostagno lo ha fatto per noi di questo la città dovrebbe essergli grata e magari ci fosse in città un segno tangibile di riconoscenza per quello che è stato il dottore Rostagno rimane quindi al suo posto e continua a lavorare presso l'emittente televisiva RTC ed è proprio lavorando presso questa emittente televisiva che secondo l'accusa matura il movente a quanto pare signor Mariano Agate da Mazzara avrebbe fatto dire per interposta persona al dottore Rostagno che era molto irritato per i suoi telegiornali e nella fase finale del processo siamo venuti addirittura a sapere che questo si sarebbe verificato non una volta ma in diversi episodi sembra quasi che quel processo fosse stato celebrato non tanto per accertare la responsabilità di Mariano Agate ma per dare a questi la possibilità di minacciare Rostagno vedete il signor Mariano Agate sicuramente è egregiamente difeso ed è norma elementare di bonton tra avvocati quella di non invadere il campo altrui semmai come difensore del signor Virga io dovrei chiedermi come mai il movente ce l'ha Mariano Agate e processiamo il Virga e Mariano Agate non ne risponde neanche ai sensi dell'articolo 110 però in questi termini la questione sarebbe completamente malposta perché vedete è tutto questo movente che non mi convince non mi convince perché nel 1988 io frequentavo la corte d'assiste di Trapani ovviamente all'epoca non ero avvocato e che che ne dicano i miei detrattori non ero neanche imputato però ero uno studente di giurisprudenza e consentitemi di ricordare quei giorni con una certa commozione perché io allora ebbi occasione di assistere al lavoro di un avvocato che assieme all'avvocato Galluffo è certamente uno dei maestri del fuori di Trapani intendo riferirmi al difensore di parte civile avvocato Elio Esposito in questo momento purtroppo assente quindi io cercavo di prendere lezioni di stile dall'avvocato Esposito cosa che ovviamente cerco di fare tuttora ma non avevo preso in considerazione una cosa che avrei avuto la possibilità di avvicinarmi liberamente alla gabbia per conversare con l'imputato questo mi sembrava e mi sembra tuttora piuttosto inverosibile comunque tutto è possibile è possibile anche che gli agenti della sicurezza gli operatori di polizia durante quel processo abbiano frequentato la stessa scuola di quella guardia che nel lontano 14 aprile del 1865 pensò bene di allontanarsi dal palco presidenziale dando la possibilità a Wilkes Booth l'ultimo soldato della Confederazione di fare fuori il presidente Lincoln tutto è possibile però tutto questo avviene mentre il dottore Rostagno lavora per Puccio Bulgarella e qui devo dire che ho avuto una grande sorpresa vedete vedete io come trapanese sì qualche cosa sapevo del padre di Puccio Bulgarella qualcosa mi era arrivata anche del fratello però la responsabilità penale estesa ai familiari è un istituto tipico del vecchio diritto sovietico tutt'ora in auge nella Repubblica della Corea del Nord d'accordo che siamo sul 38esimo parallelo ma io queste posizioni non le ho mai condivise e per quanto riguarda Puccio Bulgarella ero propenso a dare per scontato che per il fatto stesso di garantire agibilità politica al dottore Rostagno Puccio Bulgarella fosse una persona completamente estranea a certi ambienti immaginate qual è stata la mia sorpresa quando vengo a sapere che Puccio Bulgarella non solo era amico e intimo di Angelo Sino ma si trovava all'hotel Regina Carto di Roma in compagnia di Giovanni Bruschi e allora una domanda sorge spontanea se Puccio Bulgarella era una persona così facilmente avvicinabile da parte di Cosa Nostra se se ne andava all'hotel Regina Carton di Roma in compagnia di Giovanni Bruschi e rispettive signore invece di commettere un omicidio per di più a poca distanza dall'omicidio Giacomelli un omicidio che avrebbe fatto accendere ulteriormente i riflettori sulla provincia di Trapani cosa che chiaramente nessuna organizzazione criminale vuole non era più semplice più immediato più elementare dire Puccio Bulgarella sai una cosa da questo momento Rostagno non parla più alla tua televisione questa contraddizione evidente non è sfuggita né alle parti civili né alla pubblica accusa e allora ci vengono a raccontare l'episodio riferito peraltro dal giornalista trapanese Nini Ravazza di un Puccio Bulgarella che fa un discorso un po' strano ragazzi forse state facendo arrabbiare qualcuno però non vi preoccupate comunque continuate può essere che sia solo un'arrabbiatura ma di che cosa stiamo parlando della mafia o di un gruppo parrocchiale se la mafia è quello che noi conosciamo l'invito avrebbe avuto la forma dell'ordine perentorio e insindacabile perché scusatemi ma io non ce lo vedo Puccio Bulgarella a dire a Giovanni Brusca senti sai che c'è devi dire al tuo capo di farsi gli affari suoi perché la televisione è mia e ci faccio parlare chi mi piace sì sarebbe stata una stupenda prova di coraggio ma esempi di coraggio in tutta questa storia ne abbiamo avuto uno e si chiamava Mauro Rostagno Presidente se possiamo fare cinque minuti di pausa grazie